Se mi dovete fermare, avete due opzioni. O arrestarmi, o spararmi. Benvenuti con l'odn edizione di Teleato Notizie. Oggi è un giorno importante. Stiamo entrando nel regno del boss dei boss. Notta alla mafia senza sé e senza mano. Significava rischiare la vita. Teleato è diventato una televisione scomoda. Ovviamente non solo per i mafiosi. Noi abbiamo scoperto che con la scusa della mafia, l'antimafia, si continua ad arricchire. Uno dei più grandi scandali del secolo. La Presidente ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. Sono andati appresso alle farneticazioni di un pacco. Loro abbiamo cominciato a capire perché ce l'aveva tanto con noi. Quindi bisognerebbe fare una statua a Pinomaniaci. Vuoi amare il pubblico. Questa applauso per te non è un giornalista. Che non è antimafia. L'altra faccia di Pinomaniaci. Devono fare quello che dico io. Questa è l'istruzione. E te mi ha chiuso. Usava gli stessi metodi di Cosa Nostra. Tutto era troppo perfetto. E quando tutto è troppo perfetto vuol dire che c'è qualcosa che non va. Toccare ore contate. O chi? Il baffone. Sono loro che gestiscono il potere. Facevano sequestri di miliardi. Se parla da ex si tira dietro mezza Italia. Se io non avessi avuto la scorta io sarei morta sicuramente. Ogni volta che metto in moto la macchina chiudo gli occhi. Se sono tutte e due imputati. Chi è il colpevole? Chi è l'innocente? 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 Grazie a tutti.